questo cucciolo di tricheco è stato abbandonato dal suo branco è stata una segnalazione all'alaska sea life center a salvarlo di circa 4-6 settimane di vita vaghava da solo nell'oceano 90 kg di peso sarebbe diventato un buon pasto per un orso o una affamata urca è stato invece preso in custodia dal centro e seguito da un team veterinario nel video l'animale commuove per il suo disperato bisogno di contatto fisico quasi più che di cure mediche o di cibo